Buongiorno, questa è l'Agenzia Viaggi. Sì, l'Agenzia Viaggi non mi perdo. Quando parte il mio aereo? Ah, bene, abbiamo capito che vuole partire in aereo. Bene, adesso però mi dovrebbe dire dove vuole andare. Che domanda che mi fa! Voglio andare al Cairo, no? Ah, bene. Allora l'aereo per il Cairo parte alle 11.50 e arriva alle 18. Oh, benissimo, grazie signorina. E scusi, a che ora arrivo a Pisa? A Pisa? Sì. No signora, questo aereo non fa scalo a Pisa. Come non fa scalo a Pisa? Io devo andare a Pisa, scusi. Sai che cosa devo andare a fare? Devo andare a ritirare la valigia di mio zio Leopoldo. Lei conosce mio zio Leopoldo? No signora, non lo conosco suo zio Leopoldo. Beh, io devo ritirare la valigia, quindi guardi che ora arrivo a Pisa. Allora, lei arriva a Pisa, però se lei non vuole farmi disturbare, andare fino a Pisa, capisco, lei è molto gentile, può andare lei a ritirare la valigia. Io l'aspetto qua. Tanto guardi è facile, no? Lei arriva alla stazione, prende il 43, la porta proprio in via Garibaldi davanti a casa di mio zio. Proprio lì. Può andare signorina, io l'aspetto, grazie. È molto gentile. No signora, io non mi posso muovere da qui, non posso andare a prendere la sua valigia. Di qua non mi posso muovere. Poverina, paralitica. No. Ho i miei servizi. Oh, incontinente. Ma non si preoccupi, signorina. Sa, all'aeroporto li trova tutti i servizi che vuole. Se non lo trova può chiedere informazioni a qualcuno, eh. Adesso basta signora. Mi scusi signorina, non me l'ha detto. A che ora arrivo a Catania? A Catania? Sì. No signora, questo aereo non fa scala a Catania. Come non fa scala a Catania? Io devo vedere Concettina. Concettina? Sì. Concettina. E adesso che sarebbe questa Concettina? È mia cugina, no? Non si ricorda della valigia dello zio Leopoldo che lei non è data a prendermi. E fa una confusione. Dunque, la valigia l'ho presa, poi l'ho data a Concettina, ho salutato mio fratello. No, no, no. Penso di non avere più nessuno da vedere. No, no, no. Va bene così, sì. Bene, bene signora. Allora le prepara i biglietti. Ah, un momento. Mi stavo dimenticando di dire una cosa importante, sa. Io soffro di vertigini. Lei deve dire al pilota di non volare troppo alto. Massimo un metro e mezzo d'altezza. Perché se no io sto male, poi. Basta! Se ne vado! Se ne vado! Se ne vado! Fuori! Signorina, scusi, eh. Ma che ora parto? Con che volo? Che volo!